Presidente Fedriga, a favore degli alluvionati del Friuli Venezia Giulia, lei che cosa ha chiesto? Abbiamo presentato una mozione come Lega Nord al fine di andare incontro a tutte quelle realtà produttive in difficoltà, per esempio per l'endere esente dai contributi e dalla tassazione, ovviamente con una sostituzione dello Stato per il pagamento dei contributi così da non penalizzare il lavoratore. Nel mentre abbiamo chiesto la creazione di un fondo ad hoc proprio per il rilancio delle attività economiche sui territori colpiti dal maltempo e per procedere alle opere di bonifica e quindi messa in sicurezza del territorio stesso.